Vi ringrazio di essere rimasti con me di nuovo, questa oretta non sarà facile, quindi io cercherò di insegnare bene se voi cercate di imparare bene, di ascoltare bene. Abbiamo parlato del matrimonio e l'amore, l'amore che viene definito da Dio, il suo carattere, le sue attività, le sue azioni, e la sua rivelazione nelle Sacre Scritture. Quindi vogliamo prendere il nostro, come capiamo l'amore, da Dio, non dalla cultura. E anche come capiamo il matrimonio, viene preso dalla rivelazione di Dio nelle Sacre Scritture. Un uomo, una donna, così che diventano una sola carne, con una unione sessuale che ha uno scopo, che potenzialmente può procreare una nuova vita, una nuova vita all'immagine di Dio, che può mostrare in tutta la terra il carattere di Dio. Diciamo, il governo non può definire quello che è il matrimonio, può solo riconoscerlo per quello che è. I tribunali non possono definire cos'è il matrimonio, possono solo riconoscere quello che è. E quello che è sempre stato, dai tempi antichi. Poi settimana scorsa abbiamo parlato di quante sono seri i peccati sessuali eterosessuali. La fornicazione, l'adulterio e anche il desiderio sessuale. Che sono tutti contrari alla volontà di Dio che Lui ci ha rivelato. Perché questi peccati sono contro il suo carattere. Dio è amore. E questi peccati sono l'assenza di amore. Quindi oggi parliamo in modo specifico dell'omosessualità. Dobbiamo poter rispondere a delle obiezioni che gente sia dentro la Chiesa che fuori dalla Chiesa portano nella discussione che faremo sull'omosessualità. Ho insegnato su questo soggetto in molti posti negli Stati Uniti. E sarà sempre, crea sempre problemi per me o guai. E questo fa parte di quello di cui voglio parlarvi oggi. Voglio cominciare con quattro obiezioni che portano solitamente le persone da dentro la Chiesa. Il primo. Nelle Sacre Scritture e nella Bibbia non si parla molto dell'omosessualità. E se vuoi paragonare alla salvezza, è vero. Ma se invece parli, fai un paragone con altri peccati, non è vero. Ma una cosa che deve essere chiara è che se le Sacre Scritture dicono una cosa una volta e se è chiaro quello che Lui dice quella volta e quindi i seguaci di Cristo dovrebbero obbedire quelle scritture. Siete d'accordo con me? Quello che dice la Bibbia non importa quante volte è nostra responsabilità obbedire. Così, con quel pensiero in mente non c'è tempo oggi di vedere ogni testo che parla di questo. Così, vi ne darò alcuni sui quali potete pensare dopo. Prima di tutto, Genesi 1 e 2. Non parla dell'omosessualità. Vero. Parla delle buone intenzioni di Dio per tutta l'umanità nella creazione. Ha creato maschio e femmina nella sua immagine. C'è unità ma c'è anche una distinzione. Ci sono due generi. Maschio e femmina. Basta. e ognuno di questi è creato nell'immagine di Dio. Adesso in Genesi 2, 24 è il matrimonio che è istituito da Dio tra questo maschio e questa femmina e questi due diventano una sola carne. Perché sono complementari. E diventano una carne. Questa è l'intenzione buona di Dio. E quindi parla dell'omosessualità. e che parla dell'intenzione divina dell'umanità essere eterosessuale. Il rapporto tra un uomo e una donna finché la morte non li separa. ci spostiamo a Genesi 19 da 1 a 9 questo è il testo che parla di Sodoma Sodoma e Gomorra dove Dio parla dell'abominazione e il suo odio per rapporti sessuali dello stesso sesso tra altri peccati che ci sono lì. Poi in Giudici 19 versetti 22 a 25 veniamo in contatto con i Leviti a Gibea. e si trova anche lì una cosa molto simile. In quello che si chiama il codice della santità levitica dove Dio dà istruzioni su come vivere e come avere un rapporto con Lui Levitico 18 22 e Levitico 20 versetto 13 entrambi parlano di un uomo che va a letto con un altro uomo come un peccato contro Dio. Infatti in Levitico è uno dei peccati più grandi di cui si parla che ti costerebbe la vita. Questo rimane consistente con quello che dicono i profeti come Ezechiele per quanto riguarda le abominazioni nel peccato. Ma nel Nuovo Testamento vi incoraggerei a vedere Primo Corinzi 6 versetto 9 Primo Timoteo 1 versetto 10 e forse questa sera o un'altra volta vi parlerò delle parole greche Malakoi Malakoi e Arsenecai e Arsenecai Queste parole hanno a che fare con l'uomo che diciamo riceve in questo rapporto sessuale e l'uomo diciamo più maschile di questo rapporto omosessuale ma non siate sorpresi stanno ancora qui parlando di rapporti sessuali consensuali se era di un adulto che aveva rapporti con un bambino Paolo aveva altre parole che usava per parlare di questo ok molti direbbero che la Bibbia parla solo di pedorasti che sarebbe proprio il rapporto tra un adulto e un bambino e non è vero ci sono altre parole greche per questo che non sono usate Malakoi o Senecai Rapporto sessuale dello stesso sesso consensuale maschio con maschio che Dio chiama peccato il testo che invece vorrei vedere con voi è Romani Romani capitolo 1 che probabilmente è il più chiaro di tutti questi testi vorrei leggere tutto leggerò per voi versetti da 24 a 27 per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori in modo da disonorare fra di loro i loro corpi essi che hanno utato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno amen perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura similmente anche gli uomini lasciando il rapporto naturale con la donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini atti infami ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento nella mia esperienza le persone nella chiesa cercano di eliminare il pensiero che c'è qua argomentando una di tre cose i rapporti dello stesso sesto di cui si parla qui in Romani 1 parlano solo dello sfruttamento un adulto che si sfrutta un minore qualcuno che si approfitta di una persona che non è consensente la seconda cosa che alcuni dicono che Paolo non capiva che c'è un concetto dell'orientamento sessuale che le persone hanno se Paolo capiva che c'è un'attrazione tra lo stesso sesso forse non avrebbe scritto e argomentato come ha fatto la terza argomentazione che le persone danno contro l'accettare quello che è una lettura semplice e facile di questo passo Romani ha a che fare con il parlare contro le donne dove vuoi mantenere la gerarchia dell'uomo quindi non vuoi uomini con uomini ma vuoi che l'uomo abbia dominio sulla donna adesso vi aiuterò con il testo prima di tutto ci sono i pensieri nel testo che vanno indietro fino a Genesi la natura delle cose l'intenzione di Dio per i rapporti tra uomini e donne non perdete questo la seconda argomentazione è quello della natura quando vedete in versetto 26 le donne hanno il rapporto sessuale con altre donne che è contrario alla natura ancora in versetto 27 gli uomini hanno azioni terribili con altri uomini e quindi abbandonano il rapporto naturale con le donne quindi vediamo di nuovo in versetto 27 quindi gli uomini lasciano il loro rapporto naturale con la donna e vedete cosa avviene dopo si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri quindi qui sono due adulti consenzienti non è uno che si approfitta dell'altro non è qualcuno che viene stuprato contro la sua volontà erano consumati dalle loro passioni l'uno per l'altro Paolo guidato dallo Spirito Santo dice questo è peccato non può nemmeno essere un brano che riguarda l'uomo che deve dovinare sopra la donna perché in versetto 27 si parla del rapporto sessuale lesbico questo non è naturale questo non fa parte del disegno di Dio qui non si parla di coersione di forzatura queste persone hanno scambiato la verità per una menzogna e hanno soppresso messo sotto la verità e la giustizia perché vogliono proprio avere questi peccati sessuali e qui in Romani 1 dice molto chiaramente che questo è peccato contro Dio che lui è rattristato di questo e avranno responsabilità al motivo di questo peccato per questo motivo questa discussione è importante per chi dice ma non c'è tanto nella Bibbia c'è molta chiarezza nella Bibbia invece sul fatto che l'omosessualità è un peccato contro Dio quindi la seconda argomentazione che sento dalle persone nella Chiesa già ne ho parlato che le Sacre Scritture non parlano della stessa cosa di cui parliamo noi questa è l'argomentazione che le persone hanno quindi il testo biblico non parla della stessa cosa di cui parliamo noi perché noi parliamo di rapporti dello stesso sesso che siano pieni di amore che siano l'uno per l'altro in una situazione un rapporto serio ma ricordate che Paolo in Romani 1 dice che comunque erano adulti consenzianti attività consenzianti ma voglio parlare anche a voi dalla storia per qualcuno che vi dice che rapporti dello stesso sesso che erano pieni di amore che erano dedicati l'uno all'altro non esistevano all'epoca di Paolo puoi dire senza avere paura che invece esistevano ai tempi di Paolo lui conosceva bene anche nel governo romano conosceva bene i rapporti dello stesso sesso omosessuali dove comunque c'era un rapporto l'uno con l'altro fisso e comunque dice no è sbagliato se le persone si amano non è quello il problema potete essere d'accordo con me che l'amore può puntare in tante direzioni sbagliate anche questa è una di quelle la parola di Dio dà questa testimonianza e l'altra cosa che potrebbero dire le persone e di nuovo questi sono credenti alla fine non è tanto importante pastore parla di altre cose questo non è tanto importante ma ascoltate con chiarezza per alcuni momenti stiamo parlando di peccato che separa le persone da Dio quindi è importante ma voglio condividere con voi delle cose che ho cominciato a dire venti anni fa e per queste cose ero preso in giro perché le persone dicevano no non succederanno mai questo è importante per le seguenti ragioni se accettiamo l'omosessualità noi leviamo sottraiamo valore alle scritture per quanto riguarda la vita della Chiesa se non c'è bisogno di ascoltare attentamente le scritture in una parte della nostra vita a quel punto perché le persone non possono scegliere dalle scritture quali parti accettare e quali rigettare questo è importante se noi leviamo valore alle istruzioni morali delle scritture se accettiamo l'omosessualità leviamo valore alla santità l'obbedienza e anche il pentimento la terza cosa è quello che invece le persone non ci credevano potrebbe succedere saremo messi ai margini nella Chiesa e anche nella comunità soffriremo persecuzione e forse anche problemi legali se siamo contrari alle pratiche omosessuali e ci diranno che siamo come i razzisti e questa è la storia di dove è la mia vita ora razzismo e parlare contro l'omosessualità non sono la stessa cosa infatti pensate a questo a me sembra che sono io quello che è consistente qua io do valore alla santità del colore della pelle che una persona non ha niente a che fare col suo colore della pelle do valore anche ai generi e l'uso naturale di quel genere nella loro capacità sessuale io continuo a mantenere la santità di questo quelli che invece argomentano per l'omosessualità o transgender voi invece non date valore alla santità del genere maschile e femminile sei tu che sei cambiato razzismo e parlare contro l'omosessualità non sono la stessa questa è una cosa importante un peso che ho importante c'è una indottrinazione dei nostri giovani i nostri giovani sono forzati ad imparare delle forme forme di attività sessuali e di credenze che le scritture dichiarano immorali questo è importante i nostri bambini vengono in contatto con questo continuamente nella società è importante la chiesa deve parlare di questo e questa è un'istruzione pratica per la nostra società l'incremento dell'attività omosessuale e bisessuale nella società ha sempre portato e continuerà a portare un incremento nei problemi della salute legati a questo e anche a problemi sociali questo è importante facevo parte di un comitato sull'etica per un ospedale nel Michigan in quell'ospedale la maggioranza dei soldi che erano spesi erano risultato del fatto che umani vivono in queste forme di attività che sono peccaminose è vero non solamente sessuali ma l'attività sessuale è probabilmente uno dei fattori più grandi qui sentiamo che non se ne parla tanto nel testo biblico ce n'è abbastanza tantissimo sentiamo che il testo biblico non parla della stessa cosa ma sì lo fa abbiamo sentito che non è tanto importante ho cercato di farvi capire che invece è una cosa molto importante e la cosa più nuova che sento nelle chiese è che non è giusto sarebbe troppo facile per me guardare una persona in faccia e dire guarda la vita non è sempre giusta ma con compassione capisco quello che stanno dicendo questa persona ama quest'altra persona non è giusto che non possano condividere l'amore per questa persona e non è giusto che non possano avere attività sessuale con la persona che amano non puoi pensare così di altri rapporti se una persona dice io amo quest'altra persona pensate a un rapporto dove queste due persone escono come coppia questo ragazzo ama veramente quella ragazza però questa ragazza non ha i stessi sentimenti per questo ragazzo è giusto che lui non può esprimere il suo desiderio sessuale con questa ragazza il punto è questo che il testo biblico ci fa capire quello che deve essere l'amore e non parla di quello che è giusto secondo la mente umana parla della crescita umana come Dio ha disegnato che funzioni la capacità sessuale Dio sa cos'è nel migliore interesse degli umani e per questo lui ha messo dei limiti per provvedere e per proteggere e questa è una motivazione che sento dai studenti universitari credenti studenti universitari credenti dobbiamo amare i nostri vicini e mostrare grazia quello che uno pensa dietro è che non possiamo o non vogliamo mostrare amore e grazia se crediamo e abbiamo anche la sfacciataggine di dire che un rapporto sessuale tra due persone dello stesso sesso è modo di comportarsi giusto e che Dio è dispiaciuto di questo sono bigot sono intollerante non ho compassione senza amore ma questo non è quello che sono io io amo le persone troppo per non dirgli la verità con grazia e con amore ma dire la verità quando persone mi dicono dovresti permettere l'omosessualità perché dimostra amore verso i tuoi vicini falsamente fanno l'uguaglianza con l'amore un'uguaglianza tra l'amore e il trattamento e la tolleranza dei comportamenti l'amore non può tollerare tutti i tipi di comportamento genitori l'amore l'amore non tollera tutti i comportamenti devi avvisare i tuoi figli perché li ami non avvisarli di certe cose sarebbe essere senza amore non giocare in mezzo alla strada dove c'è il traffico quanto sei intollerante no io amo e quindi do questo avvertimento quando le persone dicono devi amare il tuo vicino quindi dovremmo accettare l'omosessualità stanno sopprimendo il primo vero comandamento grande comandamento Marco 12 30-31 devi amare il Signore con tutto il tuo cuore con tutta la tua forza con tutta la tua anima secondo comandamento devi amare il tuo vicino come te stesso non puoi adempire questo secondo se non stai obbedendo in modo giusto il primo quando Dio quando Dio ci rivela che l'omosessualità è un peccato contro di Lui dovremmo essere molto più preoccupati di quello che Dio pensa rispetto a quello che pensano altri umani dobbiamo amare Dio in modo supremo e così amiamo Dio amando le persone anche quando dobbiamo dirgli che stanno vivendo nel peccato ci sono un paio di cose che vorrei dire ancora ma niente parliamo di analogie e la prima che usano le persone nella chiesa è questa l'analogia biblica di includere i gentili nella chiesa i gentili non erano inclusi nella chiesa ebrea ma nel tempo hanno avuto delle discussioni e hanno trovato un accordo hanno deciso che non serviva la circoncisione e così anche i gentili potevano essere accettati nel gruppo dei seguaci di Cristo l'omosessualità è come questo adesso la chiesa sta avendo queste conversazioni vogliamo essere della parte giusta della storia quindi qui dobbiamo invitare questi omosessuali a diventare membri delle nostre chiese vi faccio vedere delle distinzioni perché prima o poi sentirete questo l'inclusione dei gentili parla di una definizione a sé basata su una condizione oggettiva che è ereditata al 100% o sei gentile o no questo è un modo semplice per dirlo e adesso vi parlo dell'omosessualità che è basato su e non ho adesso tempo per discutere della natura scientifica di questa ma è basata su un desiderio soggettivo che non è ereditato direttamente quindi sono due cose molto diverse i gentili è una definizione a sé che solo in parte può essere collegato a un modo di comportarsi peccaminoso erano peccaminosi a motivo della loro umanità non solo perché erano gentili ma nell'omosessualità nella sua definizione a sé è direttamente legata a quello che la Bibbia dice è un'attività peccaminosa quindi sono due cose molto diverse con i gentili nella chiesa aveva a che fare con il non fare un rituale positivo cioè la circoncisione ma con l'omosessualità stiamo parlando di fare un peccato sessuale sono cose molto diverse quando si includevano i gentili questa azione aveva comunque dei precedenti nel Vecchio Testamento ma con l'omosessualità questa attività non ha un precedente nel Vecchio Testamento nell'includere i gentili nella chiesa questa approvazione uniforme nel Nuovo Testamento nell'includere l'omosessualità questo è un atto che non ha nessuna approvazione nel Nuovo Testamento e quindi non funziona l'analogia e sono due cose completamente diverse e alcuni parleranno della schiavitù ma da nessuna parte nella Bibbia troviamo il comandamento di partecipare nella schiavitù mentre c'è il comandamento di avere questa unione maschio e femmina nel matrimonio alcuni faranno l'analogia delle donne nel ministero è sempre più accettato quindi dovremmo anche accettare l'omosessualità oppure anche il divorzio e il risposarsi una volta nella chiesa si guardava male a qualcuno che si era risposato adesso sembra essere accettato per qualsiasi motivo ma che non è biblico e quindi il fatto che l'omosessualità deve essere accettato per questi motivi è proprio non è vero adesso vorrei chiudere con un'analogia invece che funziona quando parli con le persone e questo è difficile l'analogia sarebbe un rapporto incesto sia il rapporto di incesto che il rapporto omosessuale were regarded were regarded by authors of scripture with similar revulsion erano da autori delle scritture consigliati con la stessa repulsione erano erano momenti di estremo immoralità sessuale sia l'incesto che l'omosessualità possono essere possono essere nel contesto di due adulti consensienti in un rapporto monogamo sia l'incesto che l'omosessualità sono sbagliati nel prendere questa considerazione che coinvolgono due persone che sono troppo simili l'incesto e anche l'omosessualità sono sbagliati in parte perché succede spesso che ne derivano problemi che possono anche essere misurati a livello scientifico problemi medici problemi psicologici problemi di rapporti ma non esiste un'analogia perfetta solitamente l'incesto non è un orientamento sessuale esclusivo però ecco tre punti che potranno spiegare questa distinzione l'esclusività di un orientamento sessuale se incesto oppure omosessualità l'esclusività di quell'orientamento sessuale non sono un motivo valido per chiamarlo moralmente giusto è Dio che determina quello che è giusto quello che è buono e già abbiamo visto nel testo biblico quello che lui ha detto che è buono e quello che lui ha detto è peccato in un senso più funzionale le persone che hanno questo desiderio incestuale represso potrebbero trovarsi nella stessa posizione di quelle persone che hanno questo desiderio omosessuale represso non possono entrare in un rapporto sessuale con quella persona con quella persona che amano e parlando attraverso anche le varie culture molte persone o la maggior parte delle persone già da piccoli capiscono la perversione dell'incesto e sono contrari ma non tutti ma la grande maggioranza delle persone umane lo fanno quindi ci potrebbe essere una combinazione di fattori biologici anche a livello di ambiente che portano al sviluppo di questi desideri di incesto chi è che sceglierebbe di avere questi desideri di incesto ma vedete qui dove l'incesto è simile all'omosessualità potrebbero essere dei motivi biologici e anche di ambiente che portano allo sviluppo di questi desideri omosessuali ma non è questo che lo rende giusto e quindi parlando di queste due cose e del paragone dico queste cose cerco di mostrare alcune debolezze dell'argomentazione per un modo di comportarsi omosessuale facendo questo paragone con l'incesto chi argomenterebbe le seguenti cose una persona non può essere responsabile moralmente se porta avanti delle passioni incestuose ci sono delle leggi che parlano contro portare avanti queste passioni incestuose quindi se una persona che ha queste passioni incesto deve essere responsabile moralmente perché non è una persona che pratica l'omosessualità dovrebbe rimanere responsabile moralmente chi è che argomenterebbe di avere una posizione forte contro l'incesto e direbbe che avere questa posizione è di tralasciare la grazia e invece scegliere la legge e abbandonare l'amore e invece avere solo l'intolleranza uno direbbe sette persone che amano si dite di non partecipare a questi rapporti incestuose e al stesso modo io amo le persone quando gli dicono di non partecipare in queste attività omosessuali chi tra di noi argomenterebbe che quando la Bibbia parla contro l'incesto deve essere considerata una legge sulla purezza che ormai è scaduta e chi tra di noi argomenterebbe che siccome nel Levitico si applica la pena di morte sull'incesto che è ragione per noi di buttare tutto via perché questo è il ragionamento che usano per l'omosessualità chi direbbe che siccome Gesù non ha detto niente contro l'incesto non pensava che l'incesto era un grande peccato nessuno di noi lo direbbe chi tra di noi direbbe se un genitore e un figlio adulto o due fratelli e sorelle adulte si amano veramente e vogliono avere un rapporto sessuale che non dovrebbe importare alla Chiesa in base a 1 Corinthians 5 noi tutti diremmo i pastori si devono dare da fare con quella famiglia perché è pericoloso è sbagliato e devono amarli così tanto che li proteggono da questi rapporti incestosi e la stessa cosa dovrebbe essere detto dei rapporti omosessuali e l'ultimo che direi e chi tra di noi direbbe che avere un'opposizione forte all'incesto ci rende una persona con la fobia dell'incesto come direi che un'opposizione intensa all'omosessualità non ci rende omofobici rende di noi la persona che veramente ama l'omosessuale e parlerà con loro con grazia e con amore e questa sera alle 18 parleranno proprio di questo parlare spero possiate venire Dio vi benedica